Il campo comunale Biagio-Fresina è un impianto funzionante a tutti gli effetti che necessita solamente di qualche ulteriore intervento di manutenzione ordinaria. Dunque non si capisce quali motivi spingerebbero i dirigenti del città di Sant'Agata ad emigrare altrove. Il sindaco di Sant'Agata Militello Carmelo Sottile risponde così al presidente della locale compagine calcistica Bernardo Paratore che ieri con un video postato sulla pagina Facebook della società aveva lanciato l'ultimatum chiedendo interventi di sistemazione paventando il trasferimento della squadra in altri paesi. Sottile non condivide tale presa di posizione attribuendola piuttosto a motivi politici. Una decisione che non comprendiamo scrive Sottile anche perché il terreno di gioco è stato omologato e la drastica decisione appare come una strumentalizzazione nel contesto di una strategia politica che di certo non giova alla nostra città. Sottile attacca quindi a spada tratta la dirigenza bianco-azzurra. Una nuova iniziativa si legge nella nota del sindaco che si presta all'unico obiettivo di denigrare sempre e comunque l'attuale amministrazione che non ha mai sbattuto le porte in faccia a nessuno. Nella sua nota il primo cittadino santagatese ricorda quindi 21 mila euro spesi per la manutenzione prima della scorsa stagione sportiva annunciando quindi che nei prossimi giorni si procederà all'approvazione in linea tecnica e alla delibera di approvazione in linea amministrativa che renderà cantirabile il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'impianto. Chiederci di fare ingenti investimenti sulle fresina dove da qui a poco saranno avviati i lavori di riqualificazione conclude Sottile sembra più una provocazione che un serio appello di aiuto non venissero ascoltate le nostre